Oggi Lollo cosa ci proponi? Oggi facciamo un bel giro del sasso lungo e del sasso a piatto. Un bel giro ad anello, viste panoramiche, passeggiatina, mangiatina, si torna a casa. Ottimo, si parte! Abbiamo già perso l'onore. Questa è un trek fatto bene, non la Val d'Alcastla, scivolava dappertutto. Questo è un trek. Io volevo dire che però il Lollo non è che gira sempre con le braccia incrociate, lo fa solo quando lo riprende. È che vuole coprire la pancia. Qua! Il Lollo ha fatto chiudere tutte le seggiovie. È tremendo! Allora, hai ditti! Siamo arrivati, giro finito. Oggi è andata bene. Allora, vai col guado! C'è dell'incertezza sul guado. Molta incertezza. Il sentiero 526 era quello lì. Ma Lollo ci ha fatto fare questo. Lì c'è una vedretta. Ma qua si batte la fiacca. Siamo tornati nel bosco. 527. Si avvicinano gli sprezzel. Si è che dobbiamo fare tutta questa strada. Lì. Poi si va su. Rifugio Vicenza. Ci andiamo poi un'altra volta. A salute! Volevo condividere con voi questo mio pensiero. La montagna è molto bella. Ci sono degli splendidi panorami. Il problema è in discesa. Mi fanno male le gambe. Mi dà proprio fastidio. In salita. Faccio fatica. Saluti! Ciao belle mucone! Ciao! Dobbiamo fare tutto lì fino ad arrivare lassù in cima. Là! Grazie, buon amore! Grazie! Dobbiamo fare tutto questo. e dobbiamo svalicare lì. C'è però da dire che la vista è notevole. Eccolo! Dai! Manca gli ultimi 5 metri! Dai che ci siamo! Brava! Grande! Allora rimane incastrato lì. E' finito. Grande! Com'è il rifugio salso piatto? Ciao! Ciao il rifugio salso piatto! Grazie! Ciao! Ciao! Eravamo lì! Abbiamo fatto tutto! E' finito qua! E dentro ce lo corriamo via! C'è l'olio? E' finito! Lattro c'è un paese indefinito! E' su due home. E' su due l'aoco. dovremmo essere quasi arrivati, ma in fondo c'è la strada